Coach Rita Covarino, ben ritrovata. Grazie, anche a voi. La fine del campionato è occasione per rivivere quello che è stato il percorso di questa stagione. Percorso che per lei partì esattamente il 17 giugno dello scorso anno. Che ricordi ha di quel momento? Il ricordo è il ricordo dei giorni di fuoco perché è successo tutto in fretta e quindi ricordo che ero impegnatissima con il corso UEFA Pro a Coverciano e sono venuta qui a Milano per parlare e per cercare nel giro di pochissimi giorni perché da lì a un mese si sarebbe iniziata la preparazione comunque a costruire la squadra insieme all'area Pasqui, allo staff e quindi sono stati giorni intensi, giorni di fuoco, una bella emozione e entrare a far parte in una grande famiglia, un club prestigioso come l'Inter e quindi sono stati giorni intensi e emozionanti sicuramente. Seguendo l'ordine cronologico, coach, l'Inter inizia la stagione in ritiro a Châtillon. Le chiedo subito quanto è stato importante questo momento sia dal punto di vista obiettivamente lavorativo perché sappiamo quanto sia importante quel momento ma soprattutto dal punto di vista del gruppo. L'Inter aveva una nuova guida tecnica, Rita Guarino e 11 nuovi volti in rosa. Fondamentale, il ritiro è servito innanzitutto per conoscerci e soprattutto per far conoscere anche le nuove giocatrici le giocatrici che erano già presenti in rosa le nuove metodologie di lavoro è servito a noi dello staff per amalgamare e per trovare anche le sinergie sul funzionamento tecnico dell'allenamento e quindi è servito un po' a tutti ma come primo passo di conoscenza, come primo passo di costruzione come primo passo proprio di relazione anche tra di noi e quindi ci sono state belle scoperte ho ritrovato anche giocatrici che conoscevo già che ho avuto la fortuna di avere nelle nazionali giovanili e quindi è stato un buon punto per partire per mettere comunque un piede già avanti e approfondire appunto queste relazioni e conoscenze. Archiviato il ritiro di Cetillon, inizia poi il campionato l'Inter parte molto bene con tre vittorie nelle prime tre giornate di campionato contro Napoli, Lazio ed Empoli lei si aspettava un inizio così convincente? Ma sin dal primo giorno di ritiro quello che mi ha sorpreso è il grande entusiasmo da parte delle ragazze si vedeva che avevano voglia di rivalsa sapevano di non aver fatto in precedenza comunque non aver dato il massimo di quanto potevano e quindi avevano voglia di riscatto voglia di mettersi in gioco e quindi ho trovato da parte loro grandissima disponibilità grandissimo entusiasmo grandissima voglia di fare bene sin da subito e quello per me è stato importante perché mi ha aiutato e sicuramente ha agevolato il mio lavoro. La prima parte del mese d'ottobre rappresenta forse uno dei momenti più difficili della stagione arrivano due sconfitte contro Pomigliano e Sampdoria figli di tanti fattori non prettamente legati al campo il Covid, diversi infortuni due sconfitte che potevano incidere parecchio l'Inter però volta subito pagina con una grandissima prestazione contro la Roma una delle squadre sicuramente più forti del campionato. Il dubbio è che ci sono stati dei fattori che hanno pesantemente indebolito non solo la forza della squadra ma anche lo spirito perché sono stati giorni di tensione e di grande preoccupazione e per cui ha inciso sicuramente sull'insieme della squadra. Poi ci siamo guardati tutti negli occhi per capire quale rotta prendere e tutti insieme abbiamo cercato non tanto il risultato con la Roma quanto cercare di mettere in mostra una prestazione alla loro altezza una prestazione alta ed era l'unica chance che avevamo per non solo ben figurare con la Roma ma per cercare di mettere in difficoltà e perché no, come poi è accaduto sfruttare quelle occasioni per portare a casa i tre punti e quindi noi siamo la squadra è stata brava insomma a reagire di fronte a questo ad a questo imprevisto che ci è capitato. Ecco mi rilascio proprio a questo imprevisto coach perché mi viene in mente la sua tesi quella che con merito le ha permesso di essere la prima donna a laurearsi UEFA Pro con la Lode quindi ancora tanti complimenti ricordiamo il titolo antifragilità allenarsi gli imprevisti per chi ancora non ha avuto modo di poter approfondire questi argomenti può essere preso come esempio quel momento particolare in cui la squadra ha dovuto reagire a un momento oggettivamente difficile? Sì beh l'antifragile sicuramente si abbale proprio di quei momenti per trovare delle soluzioni di fronte alle difficoltà di fronte ai problemi e quindi sfrutta proprio quei momenti per trasformarsi in qualcosa che prima non era forse noi in quel momento avevamo bisogno di questo scossone di questa turbolenza perché ci è servito proprio per andare a ricercare dentro di noi quelle risorse e quelle soluzioni che fino a quel momento non avevamo provato perché tutto filava liscio quindi quella battuta di arresto sicuramente ci ha dato la possibilità di trovare nella grande difficoltà risorse interne che forse non sapevamo neanche di avere Ecco non solo quel momento ma ricordo anche altri momenti momenti di assoluto valore mi vengono in mente gli incroci contro Juventus, Milan e Roma c'è da dire che nei precedenti passati l'Inter ha sempre avuto sfide un pochino complicate con queste squadre perché oggettivamente il livello qualitativo era diverso quest'anno si è avuto la sensazione che il gap si sia ridotto notevolmente tantissimo soprattutto dal punto di vista prestativo lei è d'accordo su questo? Sì sono d'accordo noi sicuramente abbiamo avuto degli alti e dei bassi e questo non ci ha permesso comunque di dare una continuità a delle prestazioni che sicuramente in alcune partite ci ha veramente premiato per quello che abbiamo messo in campo i quattro scontri ad esempio con la Juventus ne sono una testimonianza quindi riuscire a fare sempre grandi prestazioni contro la squadra plurititolata e credo che siano una grande testimonianza anche contro Roma e Milan sicuramente abbiamo offerto non solo una buona prestazione ma si è apprezzato anche la qualità della squadra questo va poi a bilanciarsi con partite nelle quali non siamo state così brave soprattutto contro squadre che erano assolutamente alla portata quindi significa che ci sono dei margini di miglioramento bisogna lavorare tanto sulla continuità per acquisire una mentalità che ti porta a preparare e giocare le partite come se fosse sempre contro la prima classifica abbiamo parlato di momenti parliamo un po' di numeri che spiegano bene la stagione dell'Inter 38 punti complessivi quinto posto in campionato l'Inter ha migliorato di 13 punti il bottino della scorsa stagione guadagnando tre posizioni in classifica e quindi si evidenzia che la sticella sia alzata in maniera evidente le faccio loro una domanda difficile coach le chiedo con quali presupposti Rita Guarino affronterà la prossima stagione ma la prossima stagione chiaramente cambia anche la forma il forma del campionato quindi ci sarà un campionato 10 squadre con andate e ritorno e poi ci saranno su divisione in due differenti pool per la vittoria dello Scudetto e la qualificazione in Champions e per la zona play out quindi con questa nuova formula il primo obiettivo indubbiamente che deve avere la nostra squadra è quello di finire nel pool giusto e quindi tra le prime cinque che darebbe comunque un'ulteriore conferma della nostra crescita e poi da lì bisogna anche porsi gli obiettivi strada facendo perché non sappiamo in asti di partenza quali saranno anche le forze degli avversari e come arriveremo noi preparati in quel momento e per cui a me piace pensare una cosa alla volta mi piace porre comunque l'obiettivo primario che è quello di indirizzare subito la squadra verso la classifica di sinistra e poi capire quanto ancora possiamo fare per alzare ancora la rosticella in parte coach ha già un po' risposto alla prossima domanda sarà una stagione storica perché per la prima volta il calcio femminile sarà rappresentato come una realtà professionistica con merito cambia il format pul scudetto pul salvezza ha già un po' parlato di obiettivi si aspetta quindi un miglioramento da parte della squadra rispetto a quanto visto quest'anno non sia dal punto di vista prestativo ma perché no anche dei risultati ma sì come dicevo prima mi aspetto sì una crescita perché se quest'anno era l'anno in cui ci siamo conosciuti in cui abbiamo gettato le prime basi in cui abbiamo iniziato a costruire qualcosa è chiaro che mi aspetto da parte di tutti noi e quindi non metto in gioco solo il ragazzo ovviamente anche noi dello staff una crescita ulteriore quindi il volersi mettere continuamente in gioco fa sì che si vada a ricercare sempre qualcosa di più importante da aggiungere per il bene della squadra e in questo dobbiamo indubbiamente crescere crescere di mentalità perché dobbiamo dare continuità al lavoro che stiamo facendo continuità di prestazione e perché no anche di risultati Coach grazie è sempre un piacere grazie a voi grazie a voi